Ha dato notizie di sé Arun Belakev, 26enne o gubino, figlio di padre etiope e madre iraniana Sami Monir, che aveva lanciato da Gubbio l'appello sui social perché dal 4 luglio non aveva più notizie del figlio. Nella giornata di ieri si era anche recata presso la caserna dei carabinieri di Gubbio per attivare i percorsi ufficiali di ricerca. Arun, non nuovo a imprese in giro per il mondo, con i spalla alla sua tenda, tanto da attirare anche l'attenzione di youtuber che gli avevano dedicato un video, era partito alla volta dell'Africa alcune settimane fa, con l'intento di raggiungere a piedi o con mezzi di fortuna Addis Abeba, la città etiope dove era nato suo padre. L'ultima telefonata alla mamma a Gubbio lo scorso 4 luglio, quando aveva chiesto che gli fosse fatto un versamento sul suo conto, poiché gli erano stati rubati tutti i soldi che aveva con sé. Stava per entrare nel Congo, in una delle zone più pericolose dello Stato africano. Da quel momento, più nulla. Da qui gli appelli della mamma, che erano stati rilanciati sui social. In queste ore Arun è riuscito a mettersi in contatto con la famiglia. Sta bene, il suo silenzio era dovuto alla mancanza di connessione nel centro del paese africano e a breve raggiungerà l'Etiopia. Sollievo a Gubbio, tra quanti lo conoscevano, e si erano attivati per lui.